bravi avete già capito questa posizione con la mano, mi piace 1-0 2 no, quello non è male ma anche quello c'è la mano quello è l'altro 2-1, marcha il 2-4 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 4-1 3-1 3-1 4-1 3-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 5-1 5-1 4-1 4-1 5-1 5-1 5-1 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.